numero 6 accappatoio linea time da donna disponibile in diverse misure e colori realizzato al 100 per cento in spugna di puro cotone modello con cappuccio cintura e tasche alto potere asciugante ideale anche per lo sport ed il tempo libero inviato in busta ottimo rapporto qualità prezzo trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 5 accappatoio donna in spugna di puro cotone idrofilo tinta unita il peso della spugna è di 380 grammi dotato di cintura cucita sulla schiena disponibile in diversi colori e diverse taglie colori brillanti e resistenti lavabile in lavatrice a 60 gradi prodotto senza sostanze nocive ottimo rapporto qualità prezzo disponibile in diversi colori se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 4 accappatoio donna con collo a scialle ampie tasche anteriori cintura con doppi passanti esterno ed interno in spugna di puro cotone pettinato grammatura 500 grammi alta capacità di assorbimento rifiniture accurate testato e garantito per lavaggi industriali ideale anche per alberghi centri estetici e benessere palestre e possibile richiedere il ricamo di un logo lavabile a 60 gradi disponibile nel colore bianco in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 3 questo accappatoio è realizzato in puro cotone la spugna è morbida e assorbente il caldo cappuccio di questo accappatoio protegge la testa bagnata dai colpi di freddo e la mantiene piacevolmente al caldo ha due tasche spaziose e una cintura lavabile in lavatrice un prodotto di qualità con assenza di sostanze tossiche testato secondo lo standard o ecotex disponibile in diversi colori e taglie acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 accappatoio donna con collo a scialle realizzato al 100 per cento in cotone 400 grammi la spugna è molto morbida ha due tasche laterali e cintura disponibile nel colore bianco questo accappatoio è personalizzabile con le iniziali un regalo esclusivo grazie alla personalizzazione trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 1 accappatoio donna comodo ed elegante con inserti in pizzo realizzato in morbida spugna cotone al 100 per cento modello con collo a scialle dotato di cintura disponibile nel colore bianco confezionato nella sua scatola originale ottimo prodotto il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione